Scoppia la polemica tra Ulderico Pesce e Libera Lagonegrese e quanto emerso ieri a margine della seduta che ha riunito a Tortora il Comitato per la Salute del Fiume Noce. A provocare l'ira del rappresentante dell'associazione Valledelnoce.it, il mancato invito a partecipare all'incontro che si è tenuto nella città di Blanda e che ha raccolto i sindaci della Valle del Noce e i delegati dell'associazione Libera. Per Ulderico Pesce c'è solo rabbia e rammarico. È una vergogna, c'è stato impedito di partecipare alla seduta. Forse spiega il portavoce degli ambientalisti perché la nostra proposta di gestire gli impianti di depurazione di San Sago in forma associata tra pubblico e privato rappresenta un elemento di disturbo in questo percorso. Questo comportamento è ingiustificabile, ha concluso Pesce. In effetti l'incontro ha registrato l'assenza di Ulderico Pesce e dei rappresentanti di Valledelnoce.it e lo stesso presidente di Libera Lagonegrese Gerardo Melchionda ha ribadito la contrarietà alla proposta. Noi diciamo che deve esserci il rispetto di quello che avevamo fissato. Il manifesto concordato il 26 ottobre a Maratea tra i punti a 9 era anche questa delocalizzazione del depuratore di San Sago e in una zona che è stata individuata come area zona SIC quindi di interesse ambientale. Non pensiamo che in quell'area possa essere collocato un depuratore. Melchionda ha poi tracciato un bilancio su quanto fatto fino ad oggi dal comitato. Abbiamo adesso chiaro che cosa è successo e quali sono anche i punti di criticità che riguardano il fiume. Sappiamo che i depuratori non funzionano sempre. Sappiamo che il depuratore di San Sago è un punto di estrema pericolosità. Sappiamo quali sono gli interventi che l'ARPAB intende fare per controlli per il prossimo anno. Sappiamo che c'è un'inchiesta in corso da parte della magistratura. Sappiamo anche che l'Acquedotto Lucano ha grossi ritardi nel sistemare i depuratori. E anche tra gli amministratori locali si è registrato un sano ottimismo. Ci sono stati dei passaggi molto importanti in questi mesi che ci siamo incontrati perché soprattutto questo fatto ha consentito di far sentire questo problema in alto loco, almeno nella regione Basilicata. Abbiamo anche dei riscontri positivi nel senso che sono state fatte delle analisi, si stanno facendo dei controlli e diciamo che meglio degli anni scorsi si sta andando. Abbiamo dei riscontri positivi.